Buonasera, in primo piano ancora questa sera nel telegiornale gli sforzi pro o contro, la scissione dipende dai punti di vista all'interno del Partito Democratico, il primo partito del Parlamento italiano per numero di deputati e senatori alle prese come si sa con un durissimo braccio di ferro che riguarda sostanza tempi, modi del congresso che si deve tenere dopo ormai, come sappiamo, 70 giorni dall'esito del referendum che ha portato alle dimissioni di Renzi dalla guida del Governo e ora porta a redderazione appunto del Partito, da quello che succede nel PD conta anche durata, tempi e modi della fine della legislatura e del nuovo ricorso al voto, compresa anche l'individuazione di una legge elettorale condivisa, per questo è così importante l'appuntamento su cui oggi si sono viste in azione le figure centrali diciamo, quelle che stanno soprattutto a metà tra i due schieramenti o che pur leali nei confronti di Renzi possono parlare alle altre anime del Partito, Orlando il Ministro della Giustizia ma anche Martina il Ministro delle Politiche Agricole e Fassino l'ex sindaco di Torino ma pare chiaro che da una parte Renzi che oggi era Milano procede come un treno con i tempi della celebrazione del congresso pur dicendo agli avversari non andatevene, venite questo deve essere il nostro slogan e dall'altra parte Bersani, Speranza, Rossi, Emiliano pensano al terreno di nuove sfide, addirittura D'Alema parla di qualcosa che superi la forma partito che ormai è stantia. Vedremo gli altri fatti del giorno mentre dalla giunta di Roma emerge ormai chiara la linea che va verso una sì alla creazione di quello stadio della Roma che è stato oggetto del braccio di ferro con l'ormai dimissionato assessore all'urbanistica Berdini. Dal fronte giudiziario invece si va verso il giudizio immediato per Marra e Scarpellini, la vicenda come si sa dell'alto dirigente del comune del Campidoglio che sarebbe stato secondo l'accusa corrotto con la vendita di una casa a prezzo irrisorio da parte dell'immobiliarista Scarpellini, il quale però andando a processo parlerà anche di altro visto che è il proprietario di tante abitazioni, uffici, interi palazzi che sono stati affittati alla politica. Potrebbe essere un processo particolarmente interessante da questo punto di vista ma vedremo anche che si fa ancora più alto il nostro debito pubblico mentre è passata la fiducia al decreto salva banche alla Camera e domani c'è il sì definitivo. Vedremo cosa cambia, sappiamo che non ci sarà più ufficialmente la lista dei debitori insolventi di Montepaschi e delle altre banche, ma noi andiamo avanti a cercarle, alcune come sapete ve le abbiamo già fornite e vedremo anche un'altra storia che è stata raccontata in commissione alla Camera proprio dal capo della società di esazione siciliana. È una vicenda fitta di scandali anche con un morto, ma è una vicenda incredibile che ci fa capire quanto a volte si sia lontani dalla possibilità di operare con la legalità nel nostro paese. E poi dall'estero c'è l'incontro Trump-Netanyahu, America più vicina che mai a Israele, migliore amico di Israele e dall'altra parte Israele migliore amico dell'America. Dice Trump l'ONU ingiusta con voi e l'Iran non avrà mai l'atomica, musica per le orecchie di Netanyahu, ma invece sul negoziato con i palestinesi non le parole che voleva sentire a quanto pari. 30 secondi i titoli. Renzi dice non andatevene, venite semmai, questo deve essere il verbo del congresso, ma intanto va avanti con i tempi fissati e annuncia per il 10 marzo a Torino la sua piattaforma, proprio a Lingotto dove Veltroni battezzò il PD. In campo Orlando, Fassino e anche Martina per cercare un percorso programmatico, così come si chiede da parte delle opposizioni interne che vorrebbero quindi un processo più lungo. Ma intanto Emiliano, Rossi e Bersani non si fidano, criticano l'accelerazione ulteriore del segretario, parteciperanno all'assemblea di domenica, ma il giorno prima saranno insieme per un'iniziativa tra di loro unitaria a Roma. D'Alema va più in là, dice basta con i partiti, le forme tradizionali, parla di costituente del centro-sinistra. Ma in sintesi la battaglia si gioca sul calendario. Renzi vuole il congresso rapido e fra l'altro prima delle amministrative e voto anticipato magari in autunno, la minoranza a tempi più lunghi e conclusione naturale del governo Gentiloni, manovra compresa. La Procura di Roma chiede, di fatto si sa già di sicuro il giudizio immediato per Raffaele Marra, ex capo del personale comune di Roma e per Sergio Scarpellini. Oggi interrogato per la terza volta, gli inquirenti hanno raccolto elementi che proverebbero la corruzione dell'immobiliarista con l'acquisto dell'appartamento del valore di 400 mila euro per Marra, all'epoca direttore del Dipartimento Patrimonio e Casa del Comune, in cambio di favori. Intanto il governo incassa la fiducia alla Camera sul decreto banca e 340 voti a favore. Non hanno partecipato i 5 Stelle che hanno manifestato contemporaneamente a Siena, davanti alla sede di Monte Paschi, per esprimere contrarietà al provvedimento che domani sarà definitivamente legge, ma come si sa non è previsto nel testo di conoscere i nomi, la lista dei principali debitori insolventi degli istituti salvati, ma solo i profili di rischio di chi ha crediti di sofferenza. Denunciato un vero e proprio buco enorme, non sono stati raccolti 52 miliardi per inefficiente collusioni nella Sicilia. Una rivelazione sconcertante fatta davanti alla commissione antimafia dal presidente dell'ente incaricato. Nella lunga lista di chi non paga il fisco ci sono anche grandi comuni come Catania e Messina, imprese private, ma anche i proprietari delle piattaforme petrolifere. Faccia a faccia a Washington tra Trump e Netanyahu, il presidente americano attacca l'ONU, molto ingiusto con Israele, durissima nei confronti dell'Iran, intesa sul nucleare tra le peggiori mai viste. Trump poi ha chiarito che quella dei due stati per israeliani e palestinesi non è l'unica opzione sul tappeto e sollecita negoziati diretti tra le due parti. Buonasera, quindi ancora in primo piano quella che è la battaglia verso il congresso, la resa dei conti nel Partito Democratico. Essendo il perno della politica italiana in questa fase, Sendo il partito che esprime oltre 400 dei 945 parlamentari delle due Camere, è chiaro che l'attenzione di tutti sia su quello che sta succedendo nel partito di Renzi, che sta per perdere se la scissione andrà in porto alcuni dei nomi più noti della sua minoranza interna, a meno che non trovi una possibilità di riuscita il tentativo che stanno svolgendo molte figure che stanno sul centro della scena, ma anche nel centro del partito. I treni congressuali sono già partiti ma vanno in direzioni opposte. Copyright di Michele Emiliano che fotografa così lo stato del PD a quattro giorni dall'assemblea che deciderà i tempi del congresso. L'appello di Renzi ad evitare la scissione, il verbo del congresso e delle primarie non è andatevene ma venite, mi chiedo come sia possibile fare una scissione sulle date e non sulle idee, viene rispedito al mittente, anche perché accompagnato nella e-news da un appuntamento, quello del 10 marzo all'ingotto, per presentare la sua piattaforma laddove Veltroni battezzò il PD. Assurdo che faccia partire già la sua campagna elettorale con un'accelerazione straordinaria e nello stesso tempo dica di voler evitare la scissione, dicono nella minoranza, la rottura la sta cercando lui. Gli sfidanti interni, Emiliano Speranza e Rossi dicono all'unisono no al partito di Renzi, annunciano che all'assemblea ci andranno ma senza aver deposto le armi, anzi, sabato alla vigilia saranno assieme in un'iniziativa unitaria a Roma. Oggi è una giornata importante perché con Enrico Rossi e Roberto Speranza abbiamo finalmente individuato una linea di azione comune, proseguiremo insieme in qualunque direzione sarà necessaria andare. Per scongiurare quella che sembra ormai una rottura annunciata è necessario trovare un punto di caduta. Martino e Fassino, sostenitori di Renzi, cercano di mediare tra la via del congresso subito e quella di una fase programmatica. L'ipotesi è quella di trasformare la convenzione nazionale prevista dopo i congressi di circolo e prima delle primarie in un momento di approfondimento di temi e parole d'ordine utile a ricompattare il partito. Idea che piace ad Andrea Orlando che oggi aveva rilanciato la proposta di una conferenza programmatica nonostante la bocciatura di Renzi lunedì, con la ricerca di un minimo comune denominatore culturale e politico per azione che porterebbe in dote l'allungamento dei tempi congressuali, ipotesi gradita anche alla minoranza. Proposta sulla quale il ministro della giustizia va alla conta nel suo stesso gruppo, i giovani turchi, stessa corrente di Matteo Orfini, presidente PD, che invece sposa il partito della fretta. La riunione si chiude con un documento unitario, ma gli orizzonti sembrano diversi, possibile sia l'anticamera di una scissione nella scissione. Eppure sotto la superficie di un PD più diviso che mai con le fazioni che ostentano le distanze in riunioni separate, i pontieri sono al lavoro. Incontri a beneficio della stampa, ma soprattutto dietro le quinte le telefonate fioccano. Attivi i due grandi azionisti della maggioranza renziana, non solo Orlando, ma soprattutto Franceschini, già grande frenatore del voto anticipato che avrebbe incassato in cambio del suo sostegno a Renzi una sconfessione sull'ipotesi di urne a giugno e che per evitare lo strappo lavorerebbe per spostare in avanti le lancette del congresso con primarie dopo le amministrative. Un primo confronto stasera all'assemblea dei parlamentari, ma chissà se Renzi sarà pronto a correre con il freno a mano tirato, mentre D'Alema guarda già oltre i confini del PD. I partiti sono macchine a sfitti che serve una costituente del centro-sinistra. Come si è visto e come si è sentito la battaglia, sì sul congresso, sulle tesi, su quello che dovrebbe essere il programma, ma in realtà è soprattutto sulle date. Perché? Perché il calendario serve a qualcosa di ben preciso. Renzi affretta anche perché in mezzo ci sono due macigni per l'immagine del governo e della maggioranza. Le elezioni amministrative e forse la necessità di fare una manovra correttiva come vuole l'Europa. E quindi prima si fa il congresso e prima si va il voto meglio. Esattamente opposto l'interesse di coloro che vogliono la fine della legislatura nel febbraio dell'anno prossimo. Non ci si può dividere per una questione di date, la versione di Renzi. Non si può fare un congresso in due mesi, la versione della minoranza. La spaccatura che sta dilaniando il PD è tutta sul calendario e se vista dall'esterno può sembrare incomprensibile, vista dalle parti in causa. È una questione essenziale. Dal punto di vista del segretario la faccenda si può riassumere così. Fare un congresso entro aprile può tenere ancora aperta la finestra elettorale di giugno, ufficiosamente chiusa, ieri dopo un vertice notturno al Nazareno, ma nella mente di Renzi obiettivo ancora possibile. Tra maggio e giugno ci sarà un turno amministrativo che si annuncia tutt'altro che positivo per il PD, che tra le grandi città in ballo potrebbe perdere Genova, mentre a Palermo sarebbe difficilmente in partita. E dunque far coincidere le due campagne elettorali potrebbe rappresentare il male minore. Tanto più che spostare la linea del voto nazionale dopo l'estate, a settembre sembra una chimera, visto che entro metà ottobre c'è da fare la manovra economica e anche questa si annuncia piuttosto difficile. Altra scadenza da ricordare è quella del 15 settembre, giorno in cui scatta per i parlamentari alla prima legislatura il diritto alla pensione, che tradotto vuol dire circa 900 euro al mese quando avranno compiuto a 65 anni. Argomento scivoloso su quali 5 stelle sono pronti all'artiglieria pesante e lo stesso Renzi si era esposto scatenando le ere dei suoi. Tutto questo per dire che il segretario punta a vincere in fretta il congresso e qualunque sarà la legge elettorale avere il controllo delle candidature. Dall'altra parte la minoranza rovescia il discorso e chiede tempo. Vuole che la legislatura arrivi alla sua fine naturale tra un anno. Il tempo per organizzare una candidatura forte in alternativa al segretario e nel frattempo logorarlo. Tempo per correggere la linea del partito, magari con qualche provvedimento sul lavoro ai giovani. Un governo gentiloni rassicurato sulla sua durata sarà più in grado di metterlo in campo. In due mesi un candidato non ha il tempo di girare tutte le province italiane e farsi conoscere, dicono dal campo di Emiliano, chiedendo almeno quattro mesi con primarie spostate a fine giugno o inizio luglio. I bersagnani puntano alla conclusione in autunno, ma l'importante è fermare la corsa alle urne. Questione di date sì, ma è il calendario a fare la differenza. L'attenzione quindi è tutta sul PD e la pressione si sposta dal Movimento 5 Stelle su Roma, anche dopo le precisazioni di ieri che hanno di fatto tolto la gran parte del peso sulla famosa vicenda degli sms di Di Maio su Marra. Ma quel Marra è comunque, come si sa, in custodia cautelare e a quanto pare andrà a processo molto presto, col giudizio immediato insieme all'immobiliarista Scalpellini. È il terzo interrogatorio, ma è il primo fuori dal carcere. Sergio Scalpellini è in affanno, chiede qualche minuto di tregua per appartarsi coi suoi avvocati. L'immobiliarista dei Palazzi del Potere è accusato di corruzione per aver comprato ai coniugi Marra nel 2013 un appartamento da quasi 400 mila euro. Gli elementi sono schiaccianti e infatti la Procura di Roma si accinge a chiedere il giudizio immediato per lui e per l'ex capo del personale del Comune di Roma, che all'epoca del regalo di Scalpellini era direttore del Dipartimento del Patrimonio della Casa del Campidoglio. Marra non apre bocca e non parlerà finché non avrà contezza di tutti i documenti che lo accusano. Scalpellini invece parla e come, grazie alla sua loquacità, si è fatto una sola settimana di galera. È uscito alla vigilia di Natale e oggi, in Procura, ha finito di riempire con gli ultimi dettagli tutte quelle pagine di omissis risalenti all'interrogatorio di garanzia. Le case, innanzitutto, ne avrebbe offerte diverse, incomodato d'uso ai politici di ogni schieramento. In piazza dell'orologio ha ricordato, l'ex presidente della Camera Irene Pivetti mi ha ridato l'alloggio solo quando ho cominciato a chiederle di pagare. Anche l'ex parlamentare Udc Ciocchetti e l'ex capogruppo del PD in Comune Mirco Coratti, a processo per Mafia Capitale, avrebbero approfittato della generosità di Scalpellini e nel bel palazzo storico di Via Poli, a pochi metri da Fontana di Trevi, Denis Verdini ha piazzato gratis la sede di Ala. L'altruismo di Scalpellini, ovviamente, è interessato. Il patron della Milano 90 ha sempre campato di politica e mattone. Per la sede del PD al Nazareno, ad esempio, riscuote circa mezzo milione di euro all'anno, ma ai preti proprietari dell'immobile, versa assai di meno. Al pubblico ministero Zuin e ai carabinieri, Scalpellini ha fatto anche un altro elenco, quello dei partiti finanziati nel corso di una vita lunga e operosa, praticamente tutto l'arco costituzionale, ma tramite bonifico e con regolare fattura. Che tempi, quei tempi degli affitti d'oro pagati senza battere ciglio da Camera, Senato e Campidoglio. L'agenzia del demanio rivelò che Montecitorio pagava a Scalpellini oltre 5 milioni di euro, quando il prezzo giusto sarebbe stato 2 milioni 270 mila euro, il doppio. Ma ormai l'aria è cambiata. È dal 2013 che Scalpellini non sovvenziona più, almeno ufficialmente, la politica locale e nazionale. L'inizio della fine, ha detto oggi, è di peso dai 5 stelle che hanno fatto saltare contratti di locazione per i due palazzi marini tra Via del Corso e Piazza San Silvestro, costringendo la Milano 90 a licenziare 450 persone dopo una strenua resistenza in cima ai tetti. Per l'ottantenne, che ha sempre veleggiato ricco e felice tra i palazzi del centro di Roma, è davvero una nemesi questo viale del tramonto dal finale giudiziario per colpa di un anonimo appartamentino di periferia. Questo per quanto riguarda la vicenda Marra, ma in realtà, quando si parla di soldi, non va dimenticato qual è il numero più alto che si trova in Italia riguardo agli euro. È quello, come sappiamo, a tantissime cifre del debito pubblico. Non accenna a fermarsi, nonostante gli annunci, nonostante le dichiarazioni di buona volontà spesso non tradotte in azione e nonostante la spada di Damocle di una procedura di infrazione che continua ad incombere sul nostro paese. L'avanzata del debito pubblico italiano non conosce sosta. Oggi, infatti, la Banca d'Italia ha reso noti i dati relativi al 2016 e non sono certo buoni come del resto ampiamente previsto. Il pesantissimo fardello, parliamo di valori assoluti, è arrivato a sfiorare quota 2.220 miliardi con un aumento di 45 miliardi rispetto al 2015. Per avere un'idea, parliamo di circa 37 mila euro a testa, neonati compresi. Se ragioniamo il rapporto al PIL, come fanno i parametri europeici, dovremmo aggirare, previsioni economiche di inverno alla mano, sul 132,8%, mezzo punto percentuale in più nel confronto con l'anno precedente. Ed è solo una magra consolazione constatare che, rispetto al record assoluto toccato a luglio, la temperatura è scesa di una quarantina di miliardi. Troppo poco, come continua a farci notare l'Unione Europea che prevede un ulteriore aumento del debito nel 2017 che potrà essere solo temperato dalla manovrina richiesta per rimettere in carreggiata i nostri conti pubblici. Un po' meno severa è stata invece l'Ocse che oggi, rivedendo al rialzo anche le previsioni sul nostro PIL, ha stimato una leggerissima riduzione per l'anno in corso. Un piccolo assist al governo che, per bocca del ministro Padoan, ha definito la politica di bilancio italiana tra le più virtuose d'Europa con la riduzione del deficit e un permanente avanzo primario, pur ammettendo che un paese ad alto debito non può crescere in modo duraturo e promettendo che, dopo essersi stabilizzato, quel debito comincerà a scendere. Promesse simili hanno costellato il triennio di Padoan al Ministero dell'Economia, il debito però complice anche la bassa inflazione e deflazione nel 2016 che non agevola certo i debitori. Ha continuato ad essere praticamente inscalfibile. Anzi, dal febbraio 2014, data dell'entrata in carica dell'esecutivo Renzi, al dicembre 2016, mese in cui la sconfitta referendaria ha assegnato la fine di quel governo, il debito pubblico è cresciuto di oltre 110 miliardi di euro e il tassametro continua a correre. E le banche e i famosi debitori insolventi, le liste, sapete che noi vi abbiamo dato quelle di cui siamo riusciti a entrare in possesso. Si sperava, come si sa, anche dopo l'appello del Presidente dell'ABI, Patuelli, che anche per legge, soprattutto là dove è dovuto intervenire lo Stato, leggi Montepaschi di Siena, si potesse avere questa lista, non per creare proscrizioni o chissà quali rancori permanenti, ma per sapere chi e in che modo e anche a volte attraverso procedure che possono essere spiegate ha messo in ginocchio quella che viene chiamata la più antica banca, che in realtà è soprattutto un grande istituto su cui per evitare la banca rotta è dovuto intervenire lo Stato. Oggi voto di fiducia però per il decreto salva banche alla Camera che è passato, domani il voto definitivo, lì però in quel decreto non c'è traccia come sappiamo della lista, al massimo i profili. Queste immagini sono di oggi. Siamo a Siena, il Movimento 5 Stelle protesta nel luogo simbolo dello spolpamento bancario nazionale. Lei è la banca più grande, famosa, antica e come si è visto, molle. Protesta contro il decreto salva banche al quale si oppone, oggi fiducia anche alla Camera è praticamente fatta. Queste altre immagini risalgono invece a più di un anno fa, altra protesta, altre banche, una comunque sempre toscana. Poi uno si chiede come si fa a non pensare che l'ombra dei campanili di Siena e di Arezzo non si allunghi un po' minacciosa sul congressone del PD. Si tralasci, ma al di là del fattore politico, al netto, la domanda è asettica. Nel tempo, tra una manifestazione e l'altra, che cosa è successo? Cosa di buono, di importante, di decisivo? Allora, quanto al monte, la banca è praticamente sparita, lo Stato ci mette una pezza che pagano tutti e però non è questo. È che sembrava chiara la necessità, quel fattore trasparenza che all'inizio di quest'anno sembrava appunto dal quale ripartire. C'era stato Patuelli, presidente dell'Associazione dei Banchieri, a dire che c'erano rilievi etici, per esempio, nel fornire le liste di chi ha preso prestiti e non li ha ridati. Quelle famose liste, ve le ricordate, no? Questo telegiornale le ha fornite su Popolare di Vicenza e Banca Marche. E se non ci penseremo ancora noi o pochi altri, se aspettiamo la legge, campacavallo. Il momento che va al traguardo domani le liste non le prevede. Prevede i profili di rischio, non i nomi, ma uno che se ne fa dei profili di rischio. Se si pensa a quanta gente aveva storie di credito da porta in faccia eppure bussava e continuava ad avere credito, che se ne fa uno dei profili di rischio? A chi aveva profili di rischio mediocre in questi anni le banche hanno concesso e riconcesso miliardi. Il punto è questo. Ci sono anche altre norme in questo decretone. Proroga per i rimborsi al 31 maggio per le quattro banche. Bene, le garanzie statali. E anche un comitato ad hoc per l'educazione finanziaria. Beh, l'ultima volta avevano scelto dal mazzo degli amici vicini. Ora si vedrà. E comunque è su una norma che è bene anche soffermarsi. Il tetto ai compensi dei manager. Tetto che varrà solo se lo Stato paga il salvataggio. Resta un sogno che valga per tutti. Basterebbe poi valesse per quelle banche che ai propri clienti abbiano fatto perdere soldi. Invece i banchieri potranno dire sempre che è stata colpa del mercato e portare a casa il loro bonus. Capito allora perché lo chiamino ancora salvabanche? Ieri vi abbiamo parlato diffusamente di quell'accordo il CETA o SITI e l'accordo tra Europa e Canada e vantaggi rischi prese di posizione pro e contro. Oggi poi come vi avevamo preannunciato c'era il voto al Parlamento Europeo a Strasburgo. L'accordo è passato con 408 sì 254 no 33 astensioni e secondo i fautori della possibilità di scambio e dell'avversione al pericolo di Dazi questo è anche un segnale lanciato a quelle che sono le sirene neoproibizioniste tra quale quella che arriva proprio da Washington e da Trump. Invece ci sono state manifestazioni contrarie al di fuori dell'edificio del Parlamento Europeo a Strasburgo e anche manifestazioni di dissenso all'interno dell'Aula. Ma tra poco del resto stiamo per vedere anzi vediamolo subito che cosa sta succedendo a Washington dove Donald Trump ha incontrato Netanyahu poi però torneremo in Italia perché c'è una storia molto forte e importante che ci mette al cospetto di l'incredibile situazione che c'è in Sicilia riguardo all'esazione veramente una situazione scandalosa e intollerabile prima però le novità sul rapporto tra Stati Uniti e Israele La nostra alleanza è indistruttibile Israele è un simbolo di resilienza contro l'oppressione e di sopravvivenza di fronte al genocidio sono parole forti quelle che sceglie Trump per aprire la conferenza stampa con il premier Netanyahu è la prima volta che due si vedono e curiosamente scelgono di parlare con la stampa prima ancora di conoscersi meglio nel faccia a faccia ma negli ultimi giorni gli Sherpa hanno lavorato a fondo per smussare possibili divergenze e attriti e confermando le indiscrezioni della vigilia questa amministrazione non considera più la soluzione dei due stati l'unica opzione facendo felice l'ospite che quell'ipotesi non ha mai gradito è un approccio a dir poco pragmatico quello di Trump uno o due stati per me va bene l'importante è arrivare a una soluzione del conflitto spiega se loro sono felici lo sono anch'io dunque un piano di pace può essere basato anche su altro come conferma Netanyahu che preferisce trattare sulla sostanza del problema piuttosto che su etichetta e slogan ma Trump evoca anche il suo predecessore Obama non per fargli un complimento farò di tutto annuncia per impedire che l'Iran abbia l'atomica l'accordo con Teheran è uno dei peggiori che abbia mai visto e gli Stati Uniti sono a fianco di Israele anche nel criticare le Nazioni Unite ma sugli insediamenti Washington chiede a Tel Aviv di avere pazienza di frenare e contenersi mentre sarebbe auspicabile meno odio da parte palestinese entrambe le parti insomma sono chiamate a fare sacrifici e accettare compromessi quanto allo spostamento dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme Trump conferma l'intenzione ma con certezze meno granitiche rispetto a quelle sbandierate in campagna elettorale è una cosa che stiamo valutando con attenzione si limita a dire Netanyahu avrebbe forse sperato in qualcosa di più ma assicura che il migliore alleato degli Stati Uniti è Israele e viceversa e ora con la leadership di Trump il legame sarà ancora più forte e l'islamismo radicale retrocederà Sicilia le difficoltà di riscuotere da parte dello Stato in una regione a statuto speciale dove di speciale c'è anche la capacità di singoli aziende multinazionali ma anche amministrazioni delle grandi città a non pagare quello che è dovuto c'è un posto di rilievo in Sicilia che nessuno vuol più occupare è quello di responsabile dell'ufficio che persegue i grandi evasori l'ultimo dirigente seduto su quella scomoda poltrona si è suicidato sul posto di lavoro un anno e mezzo fa dopo aver scritto in un messaggio al suo superiore di aver scoperto cose molto gravi da quel momento nessuno ha più voluto prendere il suo posto lo racconta oggi alla commissione antimafia lo stesso amministratore unico della società di riscossione siciliana Antonio Fiumefreddo è il quadro che dipinge aiuta a comprendere perché quella sedia sia destinata a rimanere vuota ancora a lungo gli esattori siciliani negli ultimi dieci anni non hanno riscosso 52 miliardi di euro di tasse ogni anno dei 5 miliardi e 700 milioni che dovrebbero mettere in cassa riescono a riscuotere solo 480 milioni appena l'8% del dovuto 30 miliardi di quei 52 sono ormai inesigibili perché è prescritta l'azione di riscossione nella lista dei grandi evasori siciliani ci sono società private nei settori più svariati dall'ortofrutta alle onoranze funebri dalle carni agli appalti enti pubblici e comuni con Catania in testa che deve al fisco 19 milioni di euro e poi c'è la libera repubblica del petrolio siciliano le piattaforme petrolifere a largo delle coste siciliane che a sentire fiume freddo non hanno mai versato un centesimo di tasse perché nessuno è mai andato a chiedere così almeno si sarebbero giustificate le multinazionali del greggio che però hanno poi negato agli esattori l'accesso alle piattaforme rifiutandosi di fornire anche qualsiasi informazione utile a censire i siti di estrazione attivi nel canale di Sicilia una situazione paradossale un tassello di un puzzle fatto di inefficienze e collusioni di resistenze fortissime e di sostanziale impunità l'anarchia fiscale in Sicilia comincia già dalla notifica nella sua denuncia di oggi in antimafia il capo degli esattori siciliani racconta gli ufficiali giudiziari subiscono la presenza di forze criminali sul territorio così Fiume Freddo spiega che ci sono città come Barcellona Pozzo di Gotto o Gela dove non sono corretti neppure gli indirizzi ed è quasi impossibile rintracciare gli evasori per consegnargli un'ingiunzione di pagamento o un decreto poi quando si riesce a superare il primo ostacolo accade anche di imbattersi in presidi mafiose in cui parole di Fiume Freddo non si entra né si notifica ecco questo è un pezzo di Italia sarebbe un pezzo di Italia dopo di noi a otto e mezzo gli ospiti di Lili Gruber sono il sindaco di Firenze Dario Nardella Chiara Geloni Nardella nel PD è Renziano Geloni con Bersani e c'è anche Evelina e Cristi Len poi c'è la gabbia open gli ospiti di Gianluigi il paragone sono tanti ma ci sono alcuni da citare sicuramente Alessandro Di Battista Massimo Cacciari Giovanni Minoli Henry De Luca noi ci fermiamo le borse oggi sono andate bene quelle europee ad eccezione di quella italiana Milano meno 0,69 la conclusione per l'indice Fuzzi Mib in positivo in questo momento frazionale Wall Street infatti a New York gli indici sono praticamente uguali Dow Jones più 0,47 Nasdaq più 0,48 è tutto Gruber poi Paragon ci vediamo domani sera buonasera Grazie a tutti Grazie a tutti